Ciao ragazzi e benvenuti in questo secondo episodio di... Il film di cui parliamo oggi è Slex, un horror con protagonista un paio di jeans assassini. E non sto scherzando, questo film esiste realmente, lo potete trovare nel catalogo di Midnight Factory, sopra in video, anche questo proprio come la abuela, e sì, naturalmente dalle premesse non è un film serio, almeno per la maggior parte, perché sul finale c'è qualcosa di cui vi parlerò fra poco. Prima di iniziare voglio fare una piccolissima premessa su questo format, perché intanto spero che la guardiate, perché è importante che non la schippiate, perché ho pensato a questo genere di video, a questo gruppo di video qualche mese fa, e l'idea iniziale era abbastanza diversa da quella che state vedendo adesso, ovvero un video ogni lunedì fino al 31 ottobre, dove ne usciranno ben due. C'erano molte più pubblicazioni, ma a causa di impegni vari, iniziate anche la scuola, mi sono accorto che non sarei riuscito a stare dietro a questa pubblicazione settimanale, quindi è arrivata a quella che conoscete oggi. Prima c'erano davvero tanti più giorni con video da far uscire. Pubblicato poi il primo video sulla abuela legami di sangue, non ho capito per quale motivo YouTube abbia deciso di cancellarlo dalla faccia di internet per ben due volte. Non credo sia stato per problemi di copyright, perché non c'erano problemi del genere, forse per qualcosa che è stato detto nel video, non lo so. Fatto sta che per due volte il video è andato fuori da YouTube. Questo assieme comunque ha un risultato abbastanza scarno che, devo essere sincero, non mi aspettavo, visto l'interesse che avevo notato verso questo genere di video prima della primissima uscita, mi ha fatto pensare di cancellare questo format fin da subito, dopo la prima pubblicazione. Fortunatamente su Instagram, grazie a qualcuno di voi che è davvero interessato a questo canale, a me comunque, in generale, ai miei pensieri, ai miei video, mi ha fatto venire la voglia di continuare, per questo naturalmente ringrazio tutti, ed infatti eccoci qui con il secondo episodio. Ho cercato in tutti i modi di far tornare disponibile il primo, ci sono riuscito, quindi, non so, sono stato graziato da qualcuno, e ora ci ritroviamo qui a parlare di Slacks. Che fortuna sotto un certo punto di vista, visto il film preso. Speriamo che YouTube non decida di cancellare anche questo video, e speriamo in realtà, lo dico tranquillamente, in un risultato anche un po' più diverso dalla buela, per questo vi invito a condividere il video con i vostri contatti che sono interessati magari a un film horror, trash, come Slacks, a lasciare un commento, a mettere like se ancora non l'avete fatto, comunque, le cose che all'algoritmo di YouTube piacciono molto, questo è un grandissimo grazie, non vi costa nulla, e potrebbe aiutarmi tranquillamente. Ma adesso passiamo a parlare di Slacks. La giovane commessa Libby assiste impotente alla morte dei suoi colleghi per colpa di un paio di jeans indemoniati. Toccherà a lei capire cosa sta accadendo e come fermare la sanguinosa furia in atto. E questa in realtà è solo la trama che si trova sopra in video, non c'è nulla da aggiungere, perché in realtà non c'è chissà che grandissima trama, succede questo e basta. Il film inizia con quello che si capisce fin da subito essere un prologo di un plot twist che arriverà da lì a poco, proprio come la abuela, che tra l'altro vi consiglio naturalmente di vedere, trovate qui la recensione, il primo video dell'horror month. Dalla in realtà abbastanza anonima fotografia possiamo capire un po' l'ambientazione del posto, anche da qualche scena che si vede. Comunque al momento è una scena inutile, diventerà ancora peggio poi con il plot twist in realtà. Oh, ovviamente questa è una recensione divisa in due parti, c'è la parte no spoiler, questa che state guardando in questo momento, e poi la parte spoiler dopo un avvertimento. Quindi se volete recuperare questo grandissimo capolavoro, state tranquilli, potete guardare ancora questo video. Ci vengono poi presentati i personaggi, quelli più importanti, abbiamo appunto Libby, la protagonista, abbiamo poi il figlio illegittimo di Paul Rudd e Ben Affleck, raga, è uguale, e poi altri personaggi che ti fanno pensare fin da subito, ok, non vedo l'ora che muoiano. Perché infatti voglio fare un complimento, un enorme complimento a chi ha scritto questi characters, visto che sono uno più antipatico, più stupido e più bastardo dell'altro. Così, tanto da farci empatizzare davvero quando poi moriranno tutti. Non è uno spoiler, c'è nella trama, moriranno tutti. In realtà i personaggi nel contesto horror trash non sono nemmeno recitati così male. Sì, ogni tanto la protagonista, non so ovviamente come si chiami l'attrice, perché sono abbastanza tutti sconosciuti, sono attori canadesi, perché è un film canadese, quindi non saprei dirvi il nome degli attori. Fatto sta che l'attrice protagonista, Libby, il personaggio è questo, ogni tanto se ne esce con qualche espressione un po' strana, tipo quella che state vedendo adesso sullo schermo, che tiene per qualche secondo e che mi ha fatto davvero tanto ridere, non era quella l'intenzione di questa scena. E poi tutti, in realtà i personaggi, compresa Libby, sono sopra le righe da far schifo, ma, ripeto, è un film trash, visto sotto quella luce, non è assolutamente un problema. Il problema nasce però quando, secondo i produttori, il film dovrebbe diventare serio, perché sul finale, l'ho già detto, secondo i produttori nella testa dei produttori, probabilmente queste due grandissime critiche sociali che vengono presentate, sempre, secondo i produttori, potrebbero far pensare all'Academy di candidare questo film agli Oscar. Ovviamente sto scherzando, ma nel modo in cui vengono presentate, vengono messe giù queste due critiche, una dopo l'altra, tra l'altro, sul finale, sembra che chi abbia lavorato a questo film stia dicendo «Ah, dopo un film del genere così trash, non vi aspettavate mica un plot twist, una critica così importante sul finale». No, fa schifo anche il finale, anzi, è proprio il finale che non mi ha fatto piacere questo film, perché vedendolo per tutto il tempo come un film trash è stupido, sì, probabilmente per alcuni potrebbe essere una perdita di tempo, anche per me in realtà è stata una perdita di tempo, fortunatamente dura un'ora e venti, quindi niente, però sì, è un modo per divertirsi, è un trash qualsiasi, che si guarda così per ridere, per schifarsi sotto il punto di vista qualitativo, però boh, sul finale probabilmente qualcuno si è sentito un po' Shyamalan e ha deciso di fare questa cosa. Andiamo però comunque per ordine, perché il film inizia appunto con la scena prologo, poi ci vengono presentati i personaggi, poi in realtà tecnicamente il film sembra fin da subito una comedi, già, dalla fotografia, dalla regia, sembra davvero una comedi, c'è persino una scena con cambio abiti, con la canzoncina felice, sapete, quelle solite scene delle commedie, dei film comici, ci viene anche poi presentata un po' la vicenda, ovvero quel negozio è in lockdown, non per il lockdown del covid, anche se il film è ambientato nel 2020, non è quel lockdown, però è tutto chiuso perché il giorno dopo sarà il Monday Madness, il lunedì pazzo lo chiamano in italiano, e in quella giornata partiranno le vendite di questo nuovo jeans, appunto il protagonista di questo film, che all'inizio prende totalmente a caso vita, poi ci viene spiegato più in là il tutto, e ovviamente diventa sempre tutto più stupido. Passiamo a quello che sinceramente interessa di più di questo film, ovvero le uccisioni. Questo jeans che per lo più è fatto con effetti speciali, non sto parlando in realtà di effetti speciali, chissà che, è probabilmente un tizio che lancia i jeans addosso alle persone, ecco, è quello il motivo per, è quello il modo per farlo muovere, ma ogni tanto è fatto anche in CGI, non così terribile, devo ammetterlo, però a volte sì, sembra un foglio che si muove così sullo schermo, ma in ogni caso. Le morti. Le prime che vediamo sono anche fantasiose, le prime tre, quattro, fantasiose non vuol dire che siano belle, però quantomeno non è davvero un tizio che lancia i jeans addosso alle persone, poi diventa solo quello e diventa abbastanza tutto, molto, molto, molto più piatto. Ripeto, il fatto che i personaggi siano stati scritti antipatici, stupidi e stronzi, fa semplicemente godere della loro morte, ok, potete pensare magari, sì, ma in questo genere di film la maggior parte dei personaggi sono sempre in questo modo, però appunto la maggior parte dei personaggi, non tutti, io probabilmente ho goduto anche per qualche morte che, secondo la sceneggiatura, non doveva essere così tanto divertente per lo spettatore, però sì, i personaggi sono odiosi, tutti. Forse è un po' meno la protagonista, perché, essendo anche comunque la final girl, anche se ne parliamo dopo, è quella l'unica che ha un po' di cervello in tutto, e sembra strano, è l'unica che ha una reazione un po' più realistica, ovviamente nel contesto di un horror trash. Essendo in ogni caso qualcosa di volutamente ridicolo e stupido, non mi sono comunque fatto andare giù una scena. Dico solo una parola magica per chi ha visto il film, ed è musica. È una scena che arriva verso la fine, e sì, perché? Perché è successa questa cosa? E dura anche tanto come scena. Ripeto, è un film trash, ma questa cosa supera tutto. Anche perché poi dovrebbe arrivare la parte seria, la parte interessante del film, quella con le critiche sociali, quella con la denuncia alla società, e arriva con uno spiegone che si rifà la primissima scena del film, quella che appunto si capiva fosse un prologo, ed è uno spiegone che dura tantissimo, è enorme, almeno percepito così. Anche perché alla fine in realtà, dopo qualche piccolo indizio che la sceneggiatura ci vuole dare, lo si può anche azzeccare prima dello svelamento. E notate in qualche modo la differenza con cui ho detto questa volta, che ho svelato il plot twist prima dello svelamento nel film, che è la stessa cosa che in realtà è successa nella abuela, perché anche lì ho svelato il plot twist prima che venisse rivelato. Però lo scorso lunedì abbiamo parlato di un film, e questa volta di un... film, non state vedendo però è lì, poche parole da dire in questo caso. Naturalmente del riassunto non torna assolutamente nulla, niente, zero, è tutto sempre ancora più stupido e rende il film trash, anche in un momento che secondo me volevano davvero rendere serio, anche perché, ripeto, ci sono due critiche sociali una dopo l'altra, una della quale fa anche riferimento a gli zombie di Romero, quindi che gran privilegio che ha avuto il film di Romero venendo citato in slacks, wow che onore. E in realtà il problema è come vengono presentate queste due critiche sociali, perché in loro in realtà le critiche ci potrebbero anche stare, potrebbero essere anche appropriate al genere di film, se non fosse stato così tanto trash e stupido per i primi 70 minuti. Ma avesse lì, in questo contesto, è come se un giorno pubblicassi un video parlando solo alla fine di razzismo e discriminazione, dopo aver per un'ora e mezza ruttato, scorreggiato e fatto l'elicottero con l'uccello, non lo so, tutto davvero fuori contesto. E lo ripeto per l'ennesima volta, se tutto il film fosse stato totalmente trash, senza neanche una morale finale, probabilmente mi sarebbe piaciuto, un minimo, vedendolo sotto il punto di vista trash. Invece si sono giocati la carta della moralità, quindi no, per me è un grandissimo Nozlex. A parte che comunque non avrei perdonato la scena con la parola magica musica e neanche quello a cui porta, poi, alla trasformazione di questo paio di jeans, ma vabbè, in realtà non sono questi i grandissimi problemi del film. Ragazzi, Prima di chiudere vi svelo il film di cui si parlerà il prossimo lunedì con il terzo episodio dell'horror month, ed è La casa delle bambole Ghostland. È un film che mi è stato consigliato, l'ho visto già due volte, magari lo guarderò anche una terza per avere la mente più fresca per lunedì, e l'ho trovato davvero molto carino, anticipo questo, quindi non è un film trash, assolutamente, e anzi è totalmente all'opposto di Slacks. E niente, per questo film ci vediamo il prossimo lunedì. Mentre, se volete recuperare comunque Slacks, il grandissimo film uscito nel 2021 su Midnight Factory, su Prime Video, uscite da questo video perché gli spoiler inizieranno tra 3, 2, 1. Nella primissima scena, quella prologo per il plot twist, vediamo brevemente tiserata Kirat, che è la ragazzina tredicenne indiana che poi diventerà in breve i jeans, perché sono in realtà più di uno i jeans assassini, ma sono in realtà tutti comunque Kirat, tutti la stessa persona. Ho voluto iniziare questa parte spoiler comunque parlando del plot twist, però allo stesso tempo iniziando con la primissima scena, perché comunque, se siete qui o avete visto il film o comunque non vi interessa vederlo e volete solo divertirvi con tutti i dettagli del film che fanno assolutamente schifo. La famosissima scena con la parola magica musica, naturalmente, è quella in cui Kirat, ormai li chiamo Kirat, i jeans, iniziano a ballare a Mara India, che è Shruti, se non sbaglio la ragazza indiana, commessa al negozio, si chiama Shruti. Ecco, la canzone che Shruti canta mentre aggiusta il manichino, che poi diventerà la parte superiore dei jeans. E non si capisce effettivamente come riesca a comandare il manichino, perché sono solo i jeans indemoniati, non è che è proprio una presenza all'interno dei jeans. Ma in realtà i poteri di Kirat sono messi lì a caso, non si capiscono assolutamente, nemmeno loro probabilmente hanno capito che poteri ha questo paio di jeans e per quale motivo in realtà sia diventato un paio di jeans assassini. Nel senso, nello spiegone vediamo che comunque Kirat va a finire nella mietitrebbia, diventa tutt'uno con il cotone, e vabbè, poi ci sono tantissime domande che mi sorgono in mente, ne parliamo dopo, quando arrivo alla parte finale del film. Ma anche durante le uccisioni ci sono cose che non si capisce come riesca a farle, non si capisce per quale motivo un certo potere, ovvero l'ipnosi non torni più poi dopo la seconda uccisione della ragazza nera, non ricordo assolutamente il nome. Ma visto che ho citato le uccisioni, vorrei parlare appunto man mano di tutte quelle che vediamo, iniziando da quella di Gemma, mi pare si chiami così, probabilmente, che viene tranciata in due dai jeans perché si restringono. Questo in teoria è l'unico potere effettivo che il jeans dovrebbe avere perché sono stati creati per adattarsi a tutte le taglie, quindi mi aspettavo di vedere sempre questa uccisione, invece non è stato così, perché già dalla seconda scena splatter che in realtà sono realizzate, non dico bene, ma discretamente, per la maggior parte, durante la seconda parte questa ipnosi totalmente casuale con il loghetto dei jeans che ipnotizzano appunto questa ragazza, le fanno indossare i jeans e dopo aver imitato Michael Jackson si va ad attaccare all'appendiabiti con la testa e quindi muore così, però la scena in cui totalmente a caso i jeans la fanno muovere e la fanno ballare prima di farla uccidere è una cosa che non ho capito tantissimo. La terza uccisione è quella di Lord. Ok, l'unico nome che non ricordo è della seconda ragazza, Lord, mi pare si chiami Lord, il ragazzo asiatico, e lui viene sezionato dalla probabilmente cerniera dei jeans. Ok, altro potere totalmente casuale. La cosa interessante, però ovviamente interessante tra tantissime virgolette, è che Kirat, la ragazza indiana che poi diventa i jeans, probabilmente era molto liggia al dovere, molto intelligente, infatti dopo tutte le uccisioni pulisce quello che fa e non so come riesca a pulirlo al 100% senza neanche una minima macchia di sangue sia sul pavimento ma in realtà anche sullo stesso jeans, sempre pulito il jeans, con questi movimenti strani che gli fanno fare, vabbè, ok. Poi la quarta a morire forse è l'unica con l'ultima morte fantasiosa è Peyton, sì, ok, anche il suo nome lo ricordo, ed è l'influencer, uno stereotipo ovviamente dell'influencer stupida, viziata e tantissime altre cose assolutamente non buone per mettere sotto una luce interessante l'influencer che viene strangolata durante le riprese di uno sponsor per questi nuovi jeans. Sappiamo poi dopo che effettivamente Kirat non è solo quel paio di jeans ma è tutti i jeans di questa nuova vendita, quindi se l'obiettivo principale era quello di fare una carneficina fin dall'inizio perché mettere in vita attivare solo un paio di jeans quando invece sei tutti, quindi perché non avere un'armata di jeans assassini quando ci sono tante tante persone non è che volevi fare solo distinzioni chi uccidere chi no, volevi uccidere tutti perché non l'hai fatto fin da subito. Arriviamo al plot twist perché nonostante la scena della musica sia abbastanza stupida e odiosa è importante per la trama ma anche questo importante tra virgolette perché grazie a quello e grazie al al video alla videocamera che usavano per il video di Payton Libby la protagonista scopre che i jeans probabilmente hanno qualcosa a che fare con l'India così è infatti visto che era una ragazza indiana di 13 anni uccisa che in realtà si è fatta uccidere in un modo stupido oh che casualità c'è Shruti che parla non si sa con quale probabilità visto che viene detto quante lingue ci sono in India la stessa lingua che conosce anche il jeans e che inizia a scrivere con un dito sanguinoso sul muro non dimentichiamo che in questo momento il jeans ha sopra il manichino e quindi si muove un po' tutto così e inizia a ballare anche col manichino raga che schifo lo spiegone parte anche in questo video Kirat la ragazza di 13 anni indiana dopo aver raccolto il cotone per lavorare sfruttata naturalmente in India lo porta alla Mietitrebbia però sfortunatamente porca miseria gli si incastra il vestito quello che era dentro il macchinario e se lo poteva tranquillamente levare in realtà però viene catapultata dentro e viene macinata assieme al cotone quindi sì il cotone si tinge di rosso e lei diventa poi successivamente i jeans e questo mi fa venire in mente quattro domande almeno al momento ovvero perché non ti sei tolta quella cosa lì per non farti trascinare poi in teoria i jeans non escono belli e fatti da quel macchinario devono essere di nuovo lavorati qualcuno deve essere deve essere pure andato lì a prendere il cotone lavorato per poi lavorare ancora di più per fare i jeans deve essersi accorto che era rosso dentro c'erano anche parti di un corpo macellato e vabbè terza domanda per quale motivo Kirat ha il potere di indemoniare i jeans che cos'era non ci viene spiegato tranquilli non c'è nessuna non c'è nessuna spiegazione quarta e ultima momentanea domanda per quale motivo inizia a uccidere tutti non solo quelli che lavorano alla si 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 e quindi sono in qualche modo riconducibili allo sfruttamento a quello che le è successo anche se in realtà Kirat è tutta colpa tua per la tua morte ma poi sul finale inizia a uccidere anche le persone innocenti normali che entrano nel negozio e non viene fatto vedere ma in teoria probabilmente usciranno anche da quel negozio faranno anche una carne vicina fuori probabilmente in tutto il mondo visto che non penso che quelle siano le uniche copie di questi jeans passiamo alle critiche sociali una di queste ve l'ho già detta ovvero quella del consumismo che fa riferimento ovviamente agli zombie di Romero dei suoi film infatti sul finale vediamo questa massa di persone che si accalca davanti le porte e in realtà uccide anche la protagonista infatti non è esattamente una final girl perché sul finale muore come tutti gli altri non mangiata non uccisa dai jeans ma uccisa dal consumismo dalle persone che la travolgono la buttano a terra le fanno sbattere la testa e la fanno morire e quindi lì c'è la critica che poteva anche starci ma non in un film del genere precedentemente invece c'è la critica dello sfruttamento dei paesi più poveri e dello sfruttamento minorile infatti Kirat è indiana quindi in un paese in teoria abbastanza povero soprattutto in questo contesto almeno nel film viene presentato così ed è minorenne ha 13 anni quindi lavora lì nei campi per raccogliere cotone e muore lì anche questa critica ripeto poteva starci ma non in un film come Slacks dopo di ciò il vero cattivo inizia a essere il capo dei robot viene chiamato così nel film ecco un altro personaggio di cui non ricordo il nome in questo momento comunque il Paul Affleck o il Ben Rudd il figlio illegittimo dei due attori ecco diventa lui il villain per la parte finale e viene mangiato vivo fino all'osso letteralmente da una massa di jeans dovevano assolutamente spiegare i poteri le possibilità di questi jeans perché non si capiscono mai assolutamente ragazzi il film finisce con tutti i morti a livello globale probabilmente anche o magari un pochino meno a livello nazionale compresa la protagonista che ripeto non viene uccisa dai jeans ma viene uccisa dal capitalismo dal consumismo e vabbè questo era il sottotesto in pratica muore con in mano la scheda SD del del video di Peyton dell'influencer assieme anche alla registrazione del ballo di Amara India perché l'ho ricordato non dovevo non dovevo assolutamente ma quelle registrazioni non è che servano a molto perché penso che il mondo conoscerà i jeans abbastanza presto ed il film finisce con un'inquadratura su Kirat che fino a quel momento non avevamo ancora visto in faccia che si gira verso lo spettatore rompendo la quarta parete con uno sguardo bello intenso e con un messaggio davvero profondo che si trasmette solo con questa solo con questa scena verso lo spettatore che ti fa pensare guarda quanto faccio schifo guarda che cosa succede in questi paesi e guarda che cosa è dovuto capitare a questa ragazza tutte cose giuste in realtà ma non in questo film per quale motivo io devo ammettere che sono scoppiato a ridere vedendo Kirat questa ragazza che si gira e ti guarda giudicandoti nel modo peggiore dicendo guarda che cosa mi è successo per colpa tua ma ragazzi vi ricordo che il prossimo film di cui parleremo è la casa delle bambole ghostland vi invito ad iscrivervi se non siete iscritti attivare la campanella per non perdervi questo video o comunque perdervi non perdervi gli altri video io vi invito ancora una volta a lasciare un like condividere magari lasciare anche qualche commento per aiutarmi con questo nuovo format che possibilmente se andrà bene potrei portare anche il prossimo anno sempre nel periodo naturalmente di Halloween di ottobre e niente vi ringrazio per essere rimasti fino alla fine io sono Andri questo è stato un altro mio pensiero per voi noi ci vediamo in un prossimo video sempre su questo canale Andri passa e chiude ciao ciao